Sono 5 nuovi casi in provincia di positività al covid-19 nelle ultime 24 ore, tra i quali quello di un'alunna della scuola Cristore di San Cataldo. La classe è in quarantena, saranno effettuati i tamponi sugli alunni e sulle maestre. Nelle ultime 24 ore, 5 pazienti positivi, tra i quali 3 di Niscemi, 1 di Mussomeli e la bambina di San Cataldo, sono tutti in isolamento domiciliare. È stato ricoverato in malattie effettive, un paziente proveniente da fuori provincia, e sono invece guariti virologicamente due pazienti in isolamento domiciliare, uno di Caltanissetta e uno di Delia. Sono in tutto 161 i pazienti positivi in provincia di Caltanissetta, tra quarantena domiciliare, malattie infettive e terapia intensiva. Sono 3 i pazienti ricoverati al momento in terapia intensiva, 2 di Gela e 1 di Niscemi. In tutto sono 413, aumenta il numero complessivo dei pazienti positivi dall'inizio della pandemia riscontrati in provincia di Caltanissetta.